Buona e santa serata a tutti, cari fratelli e care sorelle, grande famiglia. Ecco, siamo al termine di un altro giorno, un altro venerdì di quaresima. Oggi abbiamo vissuto nella mia comunità parrocchiale una bella esperienza. Abbiamo pregato la Via Crucis, come in tantissime altre comunità parrocchiali, ma l'abbiamo pregata al cimitero. È stato un modo particolare per riflettere su questo mistero che fa parte della vita, che è la morte, che è il modo attraverso cui da questa terra si passa al cielo. Non le nostre anime incontrano il Signore. E certo è una cosa dolorosa, no? Perché umanamente parlando si perde un affetto caro, ma tu però lo consegni al Signore. Alcune morti sono tragiche, violente, per incidenti, per malattia, per altre calamità. La guerra, la guerra che porta a tanta morte. E altre volte si muore serenamente nel letto, per vecchiaia. Però ecco, la morte ci accomuna tutti. E non dobbiamo avere paura, perché la morte ci porta a Gesù, al Padre, alla Vergine Maria, ai Santi. E a tutti quei cari che, se hanno meritato il Paradiso, si trovano lì. Ecco perché noi preghiamo per le anime del Purgatorio. Non solo per ricordarle, ma soprattutto per aiutarle a passare nel Paradiso. Questa mattina non ce l'ho fatta a fare il buongiorno, sono sincero. Ero un po' stanco e soprattutto avevo qualche decimo di febbre, ma sarà forse l'aria condizionata dei treni, lo stress. Però sono qui adesso, quindi grazie a tutti. Siccome molti mi avete scritto, non c'è il buongiorno, non trovo il buongiorno, è un problema mio. No, forse non si vede. No, era un problema mio, vi assicuro, perché stavo poco bene. Voglio alla fine di questo giorno consegnarvi il Salmo 7 che ascolteremo nella liturgia di domani. Facciamolo diventare una nostra preghiera. Signore, mio Dio, in Te ho trovato rifugio. Salvami da chi mi perseguita e liberami, perché non mi sbrani come un leone. Dilaniandomi senza che alcuno mi liberi. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza che è in me. Cessi la cattiveria dei malvaggi. Rendi saldo il giusto. Tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. Il mio scudo è in Dio. Egli salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto. Dio si sdegna ogni giorno. Dio è giudice giusto. Mettiamo la nostra vita nelle sue mani. Mettiamo tutto nel suo cuore. Mettiamo tutto in Lui. Lui sa. Lui vede. Lui provvede. Non facciamoci domande. Non facciamoci giustizie. Appelliamoci al Signore. E chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Visto che abbiamo parlato dei defunti, preghiamo l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E domani pomeriggio celebrerò la Santa Messa per le anime del Purgatorio e per i vostri defunti. Buona e santa notte a tutti e ci vediamo domani.